Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna per incidente un chilometro di coda tra Valdichiana e Monte e San Savino. Per traffico intenso rallentamenti tra Calenzano e Barberino. Sulla A11 per materiali dispersi rallentamenti tra Alto Pascio e Lucca Est in direzione Pisa. Sulla Fipilì per lavori. Ci sono due chilometri di coda in direzione Firenze tra Ginestra Fiorentina e La Strassigna e un chilometro di coda in direzione mare tra La Strassigna e Ginestra Fiorentina. Chiudiamo con i treni. Ricordiamo che per lavori la circolazione tra Pistoia e Monte Catini Terme è sospesa fino al 31 agosto. Servizio garantito con corse bus. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!